Buongiorno e buona domenica, 16 gennaio. Archiviata la sfida contro l'Udinese, oggi possiamo affrontare altri temi. Ieri vi avevo preannunciato che avremmo analizzato assieme in quale situazione la Juventus si trovi e dove voglia andare. Perché, secondo me, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, si è spostato il focus esclusivamente sul fronte Paolo Di Bala, ma sottovalutando tutto il contesto. E infatti le parole di Max Allegri alla vigilia della partita contro l'Udinese, secondo me, sono state molto importanti e soprattutto tanto sottovalutate. È normale che il tifoso juventino, ormai da mesi, direi quasi un anno intero, si ponga ancora all'interrogativo del contratto di Di Bala sì, del contratto di Di Bala no. Io vi ho fatto anche il punto della situazione ieri, per quanto mi riguarda, su Twitter, spiegando come la Juventus e Di Bala, quindi la D arriva bene e la gente a Horgantun, si siano stretti la mano per un accordo totale, ribadisco totale, ad ottobre, tra il 3 e il 4 ottobre. Vi ho detto anche, vi ho raccontato nei mesi come questo accordo fosse stato, diciamo, stipulato, sia stipulato, fino al 30 giugno 2026, 8 milioni più 2. Attenzione, non sto parlando di una trattativa avanzata, di una trattativa avviata, sto parlando di due persone che si sono strette la mano. Questo è confermato totalmente dall'entourage di Di Bala e mi sembra che fino ad ora non sia stato smentito nemmeno dalla zona Juve, sebbene comunque la Juve non sia solita smentire le voci di mercato, però ho visto anche che ci sono stati altri colleghi che hanno scritto cose analoghe, che ho proprio a memoria il pezzo perfetto a firma di Fabiana della Valle, di ieri della Gazzetta dello Sport, dove dice le mie stesse cose. Quindi se a più persone risulta la stessa versione, significa che probabilmente sia andata così. Poi cos'è successo? Che nell'incontro che c'è stato tra Antun e la Juve a dicembre, per questioni burocratiche e amministrative, la Juve ha chiesto ad Antun di posticipare la fumata bianca, nel caso specifico auspichiamo bianconera. Quindi di spostarla post mercato, corrente, quindi post gennaio, verso febbraio. Tant'è che ad oggi, io ve lo posso ribadire, perché proprio nei giorni scorsi ho avuto modo di colloquiare con le entourage di Di Bala, il fronte di Bala non ha avuto notizie differenti, non c'è stata una chiamata della Juventus atta poi a riguardare l'accordo, atta poi a magari modificarlo, oppure per dire a Antun no, non se ne fa più niente, resti pure in Argentina. Così non è successo, quindi dal fronte di Bala, e forte dell'accordo stretta di mano che c'è stato ad ottobre, Di Bala ha in testa, meramente e principalmente, la Juventus. Nel senso che in questi giorni abbiamo letto di tutto, da potenziali sondaggi dell'Inter, del Tottenham, del Barcellona. La verità è che Di Bala, forte del sì che ha dato la Juve ad ottobre, ribadisco, non trattativa avviata, ma chiusa, differente il discorso, Di Bala attende, Di Bala attende, così come attende qua in quadrado, perché anche qua in quadrado ha sostanzialmente un principio d'accordo con la Juve, ma che non può sottoscrivere perché la Juventus ha preso questa linea, ovvero che fino a febbraio i rinnovi non si fanno. Quindi questo era per farvi il punto della situazione sul fronte di Bala, sul fronte quadrado, ma in generale per spiegare come la Juventus stia centellinando qualsiasi passo, valutando anche poi la bontà della classifica. Banalmente, riassunto dei riassunti, se non vai in Champions, devi ridimensionare in determinata maniera, se invece vai in Champions puoi permetterti qualche stipendio in più, qualche investimento in più, ci sono delle entrate garantite. Quindi quando Allegri parla di programmazione tra marzo e aprile, non lo fa perché butta due mesi a caso, così lo fa perché sa perfettamente come in quei mesi la Juventus avrà già più o meno delineata la sua situazione. Auspichiamo poi in chiave positiva per quanto riguarda l'Europa che conta. E quindi Allegri responsabilizza tutto il gruppo, Allegri carica a dovere tutto il gruppo, per fare in modo che venga centrato l'obiettivo minimo, ovvero entrare in Champions. Tra l'altro, lo stesso arriva bene, prima della finale in Supercoppa, dice chiaramente, no, la squadra è a Roma, se non sbaglio, dice chiaramente la Champions è un must. Quindi bisogna centrare l'obiettivo, perché ne va della progettualità del club, ma anche della salute finanziaria, perché una Juventus senza Champions deve inevitabilmente ridimensionare i conti. Una Juventus in Champions invece ha un'altra fisionomia. Quindi ragazzi, io capisco perfettamente che il discorso di Bala vi abbia logorati, che tutti questi rumors vi destabilizzino. Ma al tempo stesso vi invito anche a non guardare solo di Bala, a guardare il progetto, a capire concretamente come in questi due mesi, come in questi due mesi, la Juventus si giochi l'osso del collo. Perché così è. Non voglio drammatizzare la situazione, non voglio tantomeno fare l'ulcello del malaugurio, ma quando Allegri si espone in maniera sottile, ma corretta e netta, bisogna ragazzi quindi capire tutti in che direzione si stia andando. Ovvero, Champions League uguale sopravvivenza, la butto lì, Europa League uguale ridimensionamento. Ma questo credo che sia anche un giochino abbastanza scontato, abbastanza banale, a maggior ragione in una politica di sostenibilità, perché io credo che mai nessuno potrà dire ad arrivare bene di avere l'uso i tifosi. Io credo che davvero l'extreme principle di Ferrari abbia finora messo i puntini sulle I e soprattutto abbia dato una direzione. A me piace moltissimo, arriva bene quando parla di senso di appartenenza, di voglia, di terminazione, di prestazioni, perché poi è vero, perché poi è vero, il contratto te lo devi meritare, che ti chiami Dybala, e che ti chiami Quadrado, e che ti chiami Pansoglio. Bisogna giustificare i compensi e soprattutto bisogna comprendere concretamente in quale situazione la Juventus si trovi, perché se la Juventus ora deve fare un'investitura, così definita, quella di Dybala da Max Allegri, non si può sbagliare. La Juve non è più nelle condizioni di poter rischiare, di poter attaccare in maniera feroce il mercato. No, ora il mercato per certi versi lo subisce, ma al tempo stesso dovrà regnare sovrana la competenza affinché la Juventus torni nel minor tempo possibile il più in alto possibile. E per fare ciò non si può sbagliare. Non può sbagliare l'allenatore, non possono sbagliare i dirigenti e non possono sbagliare i calciatori. Perché la Juventus dell'egemonia, dei nuovi scudetti di fila, quella che ha costruito, secondo me, scritto la pagina più bella del calcio italiano, insomma è irripetibile, mai nessuno riuscirà neanche ad eguagliare i nuovi scudetti, figuriamoci a superarli. Questa è la mia personale opinione. Quella Juve non esiste più. Ora ce l'è un'altra, che è una situazione molto complicata a livello di conti, esasperata purtroppo da una pandemia che non era preventivabile. Perché quando tu prendi Cristiano Ronaldo, vai ad attaccare il mercato, ma al tempo stesso puoi costruire un piano per rendere fruibile il brand Ronaldo, associato a quello della Juve, con varie operazioni di marketing, commerciali. Quindi, credo che nessuno si potesse aspettare questa maledetta pandemia. C'è stata e ora ne si paga le conseguenze. Più è un club quotato, più è impattato dal Covid. Quindi, non si può sbagliare. Quindi, mai come in questa situazione, stagione 2021-2022, entrare in Champions League deve rappresentare, uso le parole di arriva bene, un must. Occhio. Quindi, occhio, non esasperiamo le situazioni, non esasperiamo i contesti, ma molta lucidità. Perché qua non si parla solamente di Paolo Di Balla, non si parla solamente di Juan Quadrato, si parla di Juventus, del futuro della Juve. Senza tutto valutare il presente. Che non è semplice, però, questo è una politica di sostenibilità. Insomma, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Vi ringrazio ancora per avermi fatto raggiungere le 40.000 iscrizioni. Se ti fate Juventus, ma in generale, se vi piace questo canale, iscrivetevi, perché si può crescere. E anche con il contraddittorio, anche con le critiche che spesso sono il sale, e soprattutto, le critiche ragionate, fanno sempre molto bene e fanno analizzare gli eventi. Un abbraccio.